Sono partite, allora vediamo come ne impostano questa finale, la menzana lei mette subito su un ritmo a Pende 5, seguita dalla Rolly Bosica, vanno in zona cambio, cambia menzana, cambio Bosica, cambia Bellusco, cambia il Lunasport Academy, poi Cardano Scicca, poi i fattinatori Stinea ed eccole nuovamente in zona cambio, cambia Stinea e poi il Minasport Accademi, poi Collin Bosica, zona cambio, ed è ora l'unasport Accademi che si è portato in testa, seguita dai fattinatori Stinea, poi Collin Bosica, zona cambio, eccole che vanno al cambio, ed è Spinea, Menzana, Bellusco, 1.007 a venita, la squadra 1.007 viene a morita, ora è Bellusco, Stinea, Wallin Bosica, Cardano Scicca, Lunasport Academy, allunga la polisportiva Bellusco, ed ecco il pallone, cambia Bellusco, Lunasport Academy, Cardano Scicca, andiamo qua già alla zona cambio, con la polisportiva Bellusco che prende marchio, con Lunasport Academy, poi Benzana, poi il fattinatori Stinea, poi la squadra di Stinea, poi la squadra di Stinea, Wallin Bosica, zona cambio per Bellusco, cambio regolare per Bellusco a Fentagini, a meno 5, meno siano, ed è la polisportiva Bellusco, 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 Lunasport Academy, e con il giallo cambio, in questo è pericolosissimo, cambio per Bellusco, 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 è la polisportiva Bellusco, è la polisportiva, è la polisportiva, ma siamo già con il cambio, della polisportiva Bellusco, a meno 5, contagioli a meno 5, Bellusco, Lunasport Academy, la polisportiva Bellusco, Lunasport Academy, la polisportiva Bellusco, è la polisportiva, bellusco Bellusco, è la polisportiva Bellusco, è la polisportiva Bellusco, e della squadra di Berlusco che cambia poi l'Auling Musica e l'Auling Menzella ha cambiato anche l'Auling Musica e la squadra di Berlusco 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 e la squadra di Berlusco